Nel progetto ABC ho letto alcuni estratti sulla bellezza e soprattutto sul ritmo della bellezza. La bellezza in realtà è comunque, si può narrare in tantissimi modi, attraverso il cinema, attraverso l'arte, attraverso la pittura, la scultura, la città, semplicemente camminando appunto nel mondo. L'ho scelta perché volevo raccontare qualcosa sull'eterno ritorno e quindi cosa c'è di meglio se non appunto l'eterno ritorno dell'onda. Per dire come la bellezza è eternamente là, quindi mi piaceva questo silogismo fra la bellezza e la bellezza che comunque tende a un'eternità e quindi l'onda è poeticamente la cosa che va e ritorna ogni volta eternamente.